Sponsored by Costa Marina, case, vacanze, b&b e ristorante a Peschici Gargano Info 348 83 29 295 Costamarina Peschici.it Impresa Valassi Fermo e Franco L'arte di costruire e ristrutturare www.valassiff.it Trattoria Cantù dal 1897 all'Iporna 7 di Urginate Trattoriacantù.com Studio Dentistico Caponero Dottor Livio Sulla bocca di tutti caponerolivio.it Treva Home La tua casa vacanza sul lago di Como 340 22 45 235 trevahome.it L'Ecco Albino Leff a Riga Monticeppi nel turno infrasettimanale delle ore 18 che porta poco meno di mille spettatori all'Aostadio la sesta di ritorno nel Cironi A di Serie C L'Ecco vuole riprendere una marcia che possa avvicinarlo alle prime posizioni in classifica dopo lo scivolone di settimana scorsa mentre invece Albino Leff vuole fare punti anche lontano dal terreno di casa dentro il corso di giudici dopo poco meno di un minuto si avvita Pinsauti ma non può dare forza al pallone dall'altra parte Gusu uno contro uno con Zambataro sceglie la soluzione centrale poi arriva il compagno e poi la conclusione di Manconi con l'esterno destro finisce in curva sud non riesce a dare precisione il numero 10 autore di 9 gol in stagione attenzione alla conclusione di Galli anche in questo caso mezzo esterno il tiro non può impensierire Offredi 35esimo poche le occasioni una partita molto bloccata Yava guarda i suoi giudici dentro la punizione poi Lakti al 60esimo fa realizzare gol del vantaggio dell'Eco il giocatore albanese con questa volée di interno destro bellissima avremo un modo di riapprezzarla adesso nel replay voluta sul cross di Luca Giudici sempre decisivo con le sue giocate Giudici il capitano dell'Eco e poi Lakti bravo ad anticipare il diretto marcatore che zoma e ad andare a beffare col pallonetto Fredi gol di Lakti L'Eco la sblocca 1-0 meritato il vantaggio dell'Eco ma alla 67esimo 7 minuti dopo Cocco è entrato dalla panchina realizza una punizione magistrale qui bisognerebbe discutere molto sul fallo da cui nasce la punizione ma Gemelli decide così l'arbitro di giornata concede la punizione dal limite e Cocco realizza il suo nono gol in campionato rivediamo la soluzione balistica magistrale del numero 19 dell'Albino Leffe all'incrocio dei pali Melgrati non può nulla riapprezziamo ancora è purtroppo per i tifosi dell'Eco che si disperano in curva nord è 1-1 o schiaccigliato vede la partita tornare sui binari dell'equilibrio 84esimo dentro il cross Bunino poi Giudici prende il tempo Zoma che lo atterra e Gemelli non ha dubbi va subito a indicare il dischetto del rigore Ilari bravissimo a mettere dentro questo pallone una spizzata poi Giudici prende il tempo alle spalle Zoma che è in ritardo giocata di un'intelligenza tattica sublime di Luca Giudici all'ottantacinquesimo che va a prendersi un calcio di rigore fondamentale nell'economia del campionato dell'Eco dagli 11 metri Carlo Ilari realizza con una freddezza glaciale il gol del 2-1 pesava tantissimo quanto pesava questa palla sul sinistro di Ilari ma il giocatore dell'Eco la spedisce sotto l'incrocio con grande precisione freddezza 2-1 Lecco all'86 torna avanti la formazione di Foschi che merita nella ripresa perché insegue con maggiore voglia la vittoria 5 minuti di recupero non basta l'Albino Leffe che non riesce più a proporsi nel finale in una partita con poche occasioni da gol vince il Lecco 2-1 la vetta per i blu celesti ha soli 3 punti per i blu celesti 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 per i blu celesti